attenzione riuscito a rientrare ah sei con noi? sei già in partita? cazzo perchè? dove stanno signor killi? uh bello quelli sono tre e dove stanno che non li vedo? ah uno è quello là va uno è quello là sul tetto che c'ha la smart perchè da come se no c'ha la smart e la prima vittima la fa a cattone ancora una volta sempre lui e adesso va a prendere quello che lo stava sparacchiando e solo là cerca vendetta a cattone dall'essere stato sparacchiato ma spadella, spadella ripetutamente mentre il suo nemico sembra sapere il fatto suo e infatti muore come sta manna? io ho rischiato di morire almeno un paio di volte non va bene, eccone uno là oh porca puttana con il fucile G con il 24 eh ero ammazzato però ormai è nato questo stronzo ma qui c'è uno che mi sa che si ha fatto ammazzare le soldi semplici mamma mi ha fatto sopporto al volo io ci vi ho più al volo che quando metto il fucile vedete? oh so io ehi, ehi, so io sogno io non me schiatta e2 il mio titan è pronto al lancio ragazzi penso che ne farò uso non prima di aver ucciso questo niacchilo naturalmente fermo lì mi spavano adesso mamma mia come vado al volo ragazzi come vado al volo al volo solo temibile il titan io lo posso lanciare qua non lo fare? fatemi sapere eh che lancia fai ah guardate questo come ti spazzo al collo oleee dichiarato ragazzi dichiarato quando si arriva quando si arriva a queste vette oh qui c'è qualcosa che non vuole uno che mi sta assentendo vuole crepare sta dietro un po' che cazzo sta ma è dentro mi sta con la stronza la testa vado a prenderlo gratis sta là sopra ma tu sai chi è? porca miseria qui c'erano due portaita ma io mi trovo qui più alto in fondo alla mano la valle in su si a suro ecco c'è un tainer venico si parla a queste nuove persaglio attaccato da titanudea oh scotennalo 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 e dai il vecchio imperialist ha fatto la sua la sua salita p io un cluster lì dentro questa che c'è oh vedo un pilota a piedi eccolo no? dove stai? chi sei? ma fa pochi e stanno quant'ora ma ho chiaro il smart eh la smart eccolo là su ah no è un botto mannaggia lo stanno ha preso oh un tainer sta fermo un attimo la che c'è un pilota là su lo volevo beccare guarda sto babbeo si è messo di mezzo fra il nascull e la sua preda fermo così oh quando dico fermo fermo cavolo ma spappo lì dentro non c'è più nessuno ma questi ci sono gli archivi poi chiamate pure i titan loro pure c'era il pilone io scendo era il titan poi c'è pure il titan poi c'è pure il titan 106 al 56 i titan occhio che però c'hanno i titan pure loro eh vabbè quando chiamano loro i titan li chiamano anche loro ci stanno ci stanno già i titan cioè il mio me lo stanno ammassacrato sono sceso per che da te retta a te ma non mi stanno abbrassare avevo beccato uno cazzo di me sbagliato c'era un coglione dietro io ce ne avevo un ho visto uno là cazzo eccolo eccolo là sopra eccolo là sopra vai che me lo faccio vai che me lo faccio vai che me lo faccio ahhh solo l'assist solo l'assist vanno qua a trovarlo dai chi ne trova uno lì c'è il palloncino dai eh occhio al tyran c'è un tyran con un ranzo quadro quello qua dai adesso lo muto costa eh lo prende c'è un tyran qua che rompe il cavo ottimo non spara per un passevedere ma è un tyran chi è questo? spero che tu sia il mio amico oh 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 mamma mia che clusterone che ho schivato paura paura al settimo piano non è stata divertita ci frate eh 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 ciao dove scappi bel bambino dove scappi? vuoi scappare? non c'è via di uscita no no vieni qua su ah ah come adoro è sempre il solito chi ha lasserino in quella stanziera sta diventiamo ucciso dai ma io non sta diventiamo anche venne oh c'è uno sopra non c'è uno scato consiglio di eliminarlo si può fare questo vai questo è un bambino guarda a volte ci sono una cosa in realtà dove stai? che tu volevo io ragazzi hai passato tu e ce l'hai dietro il nucleo scato è troppo dunque se me la faccio accadre no no è stato sul tetto hai visto? è entrato qua dentro non lo so uno è sceso davunque ho ammassato qua il vigno non so attivazione nucleo scato ora incapacità scato ho avuto oh oh l'hai disintegrato un pilota scarso un pilota scarso c'è un pilota che ha messo a puntare eccolo ha 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 adoro no ma perché sei risalito se stai? ho stato molto bene a piedi io non vedi questo cazzo che culo ti aiuto io amico tu non fai oh c'è un altro c'è un altro c'è un altro occupato qui sempre te l'ho ammassato questo che è quello lassù che fai qui? io stavo tirando il sole ce ne stanno almeno un paio qui ragazzi lo sapete? ne stanno sparando pure col silenziatore oh guarda mi stavo a dire oh un taida del cazzo ah ma era un taida non era un pilota col silenziatore pensa un po' che precisione di mira mi sembrava un pilota col silenziatore invece era un taida un grande hai vede visto di qui che fiume è un top ma che è che ma che è che sta da fassicare un taida mio? è vero che lì è deciso non faccia un miracolo non possiamo perdere oh cazzo l'ho visto no guarda tu vuole montare dentro della sceglie gliela fate ammassato sto pilota oh vedete da qui c'è un altro di pilota qui ragazzi occhio eccolo ok è andato fatto 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 attento a quel taida c'è la prima minaccia ecco questo gioco lo riprendono ragazzi cazzo ti dico perché lo riprenderanno chi? chi lo riprende scusami mi colpo bene qual è il soggetto? lo riprendono che vuol dire lo riprendono? non capisco il soggetto lo riprendono? chi è che riprende? gli faranno il tosto il il la feccia ma che aspetti non vuole pezzo ormai se si aspetta a due si aspetta no 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 due tra poco si infatti questo qui ormai non se lo filano proprio più di pezzo secondo me eh questo com'è arrivato si ferma ma no mi spiego anche ce n'è uno lì davanti in mare di sangue vabbè mare di sangue non mi sento che te lo dico qua ce n'è uno qua sotto se si pira una navicella a piedi il semplice motivo che adesso lo metteranno tra i due le sono salite io perché la faccio l'ho lanciato adesso tra i come si chiama i giochi quelli che tu puoi fittare al mese 3 euro e 99